A proposito delle ricette, abbiamo qui con noi un grande esponente dell'anno del chiusismo e delle arti culinarie in tal senso, per cui siamo lieti di poter parlare anche con noi. Abbiamo scelto il top per rappresentare la cultura che abbiamo raccontato finora, abbiamo scelto il top, quindi vi presento Ariz Marchetti, che è lo chef di RGTV e regatone. Non poteva che esprimere al massimo le nostre intenzioni, quindi degusticus. Beh sì, degusticus è un'espressione proprio del Coscurso in chiave completamente moderna e questo è un grande vantaggio sul mercato così veloce e così facile nella preparazione come quella del Coscurso. Ci permette di abbinarlo a ciò che vogliamo, questo è un valore aggiunto, un po' come utilizzare il prodotto che trovo, che ho in casa e abbinarlo a un prodotto a base di semo, a base di lenticchia, a base di ceci, quello che vogliamo, proprio di stagione. O comunque caldo, freddo, al mare o veramente la battuta mare e montagna, sì, veramente. Quindi grande duttilità, grande possibilità di creatività, di creazione in tal senso. Hai una ricetta da consigliare ai nostri ascoltatori, ovviamente qualcosa di dicibile anche, di fattibile in tal senso. La cosa fattibile, guarda, la presentiamo proprio alla manifestazione, che è una cosa carinissima perché è molto semplice da preparare. È un piccolo bonbon di Coscurso con un cuore fatto di marmellata, di ciliegie e gocce di cioccolato fondente. Quindi una volta fatto di generare il Coscurso con l'acqua, lo andiamo a mescolare con una confettura di ciliegie. Lo rendiamo abbastanza morbido per creare la classica pallina e ci aggiungiamo di un cioccolato fondente a scarico. Quindi è una ricetta semplicissima, però molto, molto gustosa. Che noi assolutamente consigliamo a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i nostri affezionati. Intanto, Mr. Marchetti, veramente grazie mille per la sua disponibilità. In bocca al lupo per tutto e ancora complimenti per il suo lavoro. Grazie, grazie, arrivederci.